Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifiche dei nuovi video caricati. Torniamo ad occuparci di Fatherport 16 Production Controller della Presonus. Oggi vedremo come interfacciarlo ed utilizzarlo con Logic X. Lanciamo Logic. Innanzitutto accendiamo il nostro controller tenendo premuti i canali 1 e 2 per il setup. Ci verrà chiesto quale tipo di Do iniziare a lavorare. Noi selezioniamo 2 Logic, facciamo Exit e siamo pronti per interfacciarci. Lanciamo Logic e creiamo un progetto nuovo. Aggiungiamo una traccia e automaticamente il nostro controller è interfacciato. Andiamo a verificare nella finestra di Control Surfaces. clicchiamo su Setup e noteremo che il nostro Mac e Control è automaticamente selezionato. Siamo pronti ora a creare delle tracce successive per cui aggiungiamo per esempio 16 tracce audio e la nostra superficie automaticamente si sincronizzerà. Siamo pronti quindi a lavorare già con i fader come vediamo. Apriamo il mixer e notiamo come potremo iniziare immediatamente la nostra programmazione. Qualora dovessimo accedere ai Send, clicchiamo su Send e siamo pronti per inviare i Send nelle varie tracce. Stesso discorso per i Pan. Quindi selezioniamo un canale, ad esempio il primo, e scriviamo la nostra programmazione. Play Stop Andiamo su Read Ed ecco la nostra programmazione registrata. Ovviamente tutti il resto dei controlli è sincronizzato. Quindi anche il Solo, il Mute Possiamo verificare appunto la possibilità di lavorare sul volume master Il click Lo scrolling all'interno della song E anche lo zoom Oltre a tutte le altre funzioni di spostamento tra i vari canali Possiamo poi accedere alla sezione VCA Bass Virtual Instruments Come possiamo vedere Faderport 16 è perfettamente sincronizzato con Logic X Spero che questo tutorial vi sia stato utile Vi aspetto nei miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online Dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata Verrete a contatto con le mie tracce Affronteremo i vostri mix insieme e li felinizzeremo nella fase di mastering Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto